27.296 nuovi casi in tutta Italia, questo è il dato dell'incremento rispetto al giorno precedente, secondo il bollettino giornaliero del 18 agosto, consultabile dal sito tematico dedicato al Covid-19 e del Ministero della Salute. Il numero relativo alla sola regione siciliana è pari a 2.082 casi. In provincia, invece, l'aggiornamento dell'aspenissena del 18 agosto relativo alle 24 ore precedenti parla di 113 nuovi casi. I pazienti positivi al SARS-CoV-2 sono tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 37 pazienti di Gela, 20 di Caltanissetta, 10 di Niscemi, 9 di San Cataldo, 7 di Riesi, 5 di Sommatino, 5 di Milena, 4 di Butera, 3 di Campofranco, 3 di Serra di Falco, 3 di Sutera, 2 di Delia, 2 di Marianopoli, 2 di Mussomeli e 1 di Montedoro. 4 i ricoveri in degenza ordinaria, 3 pazienti di Caltanissetta e 1 di Sutera, 9 invece le dimissioni sempre dalla degenza ordinaria, 6 pazienti di Caltanissetta, 2 di Gela e 1 di Riesi. Guariti dal Covid-19 infine 28 pazienti di Gela, 20 di Caltanissetta, 9 di San Cataldo, 6 di Mazzarino, 6 di Sommatino, 5 di Riesi, 4 di Butera, 4 di Niscemi, 3 di Campofranco, 3 di Mussomeli, 2 di Marianopoli, 2 di Vallelunga-Pratameno, 1 di Delia, 1 di Montedoro e 1 di Serra di Falco. Grazie. Grazie a tutti.